la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e ben trovati alla nostra rassegna stampa andiamo a guardare insieme le principali notizie di oggi iniziamo con la prima pagina del mattino il titolo di apertura Salvini ha processo Movimento 5 Stelle divisi caso 18 il Tribunale dei Ministri chiede l'autorizzazione a procedere sfida in Senato, il Vice Premier sui porti non mollo la Sea-Watch verso Lampedusa e Di Maio non sbarcano il Tribunale dei Ministri dunque chiede di processare Salvini per la vicenda della nave 18 ed è sfida in Senato mentre il Movimento 5 Stelle si spacca sono colpevole ma non si cambia la politica sui migranti non la fanno i giudici queste le parole del Ministro e scoppia un nuovo caso Sea-Watch la nave con a bordo 47 migranti naviga verso Lampedusa per trovare riparo dal ciclone mediterraneo con onde di 7 metri per Salvini è un'ennesima provocazione e Di Maio avverte non sbarcheranno il commento la giustizia e l'autonomia della politica rimaniamo di taglio alto con la cerimonia cioè l'allarme di Mattarella il corazziere nero Mattarella parla per il giorno della memoria dell'orrore dello sterminio nazista ammonendo a non spianare a non spalancare le porte alle più in mani tragedie ad ascoltarlo i leader del governo giallo-verde accolti a Quirinale da un corazziere di colore di lato donazioni ai partiti 2 per mille anche al Sud la Lega supera Forza Italia gli elettori contribuenti della campagna nelle scelte IRPE fanno confermato l'atteggiamento poi certificato con il voto nelle politiche del 4 marzo scorso l'analisi del 2 per mille ai partiti conferma anche al Sud il superamento di Forza Italia da parte della Lega 4.098 donazioni per il partito di Berlusconi 4.396 per quello di Salvini il partito democratico è primo della regione con 21.947 scelte e sempre di lato le idee alta velocità la vera analisi costi benefici e la Napoli-Bari il nostro è un paese strano in questi mesi ricorre il decennale dell'avvio dei servizi di alta velocità sulla linea Torino-Milano-Napoli-Salerno quasi unanimemente riconosciuto come grande successo per l'Italia al tempo stesso fervono discussioni e schieramenti pro-tav-no-tav in relazione allo sviluppo del progetto spostiamoci sul centro pagina il bambino colpito da una malattia rara Alex è salvo il trapianto funziona il papà subito un gelato ancora centro pagina la Napoli perbenista in affari con il clan deve finire sull'astrico il duro atto di accusa del procuratore Riello c'è un filo nascosto in città che va reciso c'è una parte della società perbenista ma non perbene che non disdegna di fare affari con la criminalità questo è il filo invisibile da recidere per il procuratore generale di Napoli Luigi Riello alla vigilia della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario al maschio Angioino grazie a loro dice la camorra riesce a trasformare la violenza fisica in forza economica e andiamo ad Afragola sfida allo Stato tornano le bombe minacciato un tabaccaio una bomba è stata collocata davanti all'ingresso di una tabaccheria l'ordigno non è esploso ma le fiamme hanno danneggiato l'ingresso del negozio tregua finita questo è il nono attentato in un mese il primo dopo la visita del ministro Salvini di taglio basso i fatti dall'estero Venezuela rischio guerra civile il presidente non lascerò mai dopo l'autoproclamazione di Juan Gaido come nuovo presidente del Venezuela l'entusiasmo dell'opposizione comincia a diminuire davanti alle reazioni di Maduro dei militari e di alleati come Russia e Cina il sostegno di Trump all'opposizione resta un buon punto di partenza per convincere il regime chavista a trattare la resa ma non è sufficiente intanto le proteste proseguono e nonostante gli inviti a una soluzione pacifica in due giorni si sono registrati 16 morti e poi l'analisi la fine del ciavismo la dittatura stanca che si crede religione questa è la prima pagina del mattino andiamo sulla prima pagina del mattino di Salerno l'apertura lo sfratto dei migranti piano trasferimenti chiude il primo centro ma c'è chi resta a proprie spese via da Pagani in 41 c'è una bimba di un anno così perdiamo il lavoro andiamo a vedere lacrime cioccolatine e caramelle ricordo di Pagani questa l'ultima immagine negli occhi degli extracomunitari che ieri poco dopo le 11 sono stati portati via dal centro di accoglienza straordinaria di via pesca gestito dalla cooperativa sociale San Pio di Angri guidata da Carlo Dacunzo dopo due anni e mezzo svuotato il centro della zona rurale Paganese un fulmine a ciel sereno pochissimo tempo per organizzarsi tutti gli ospiti del centro 5 donne una bambina e 35 uomini si erano recati anche in prefettura per chiedere una deroga utile a trovare una soluzione alternativa e rimaniamo sempre su questo le nuove regole gli stranieri con la valigia affidati a 22 ditte del terzo settore di lato l'ambiente di scariche selvagge ecco i rifiuti d'artista a Torrione viene scritto un cartello denuncia quest'anno già 15 sanzioni fino a 500 euro ma multe e telecamere non fermano gli incivili Salerno rifiuti d'artista dunque è il cartello affisso in via Giuseppe Mogavero nel cuore di Torrione dove un residente esasperato ha usato l'ironia per denunciare l'abbandono incontrollato di rifiuti sotto casa sua negli ultimi giorni appunto i vigili abbiamo detto hanno elevato 15 sanzioni fino a 500 euro per le micro discariche fuori legge passiamo all'economia Enti Lumaca Edilizia Crac vanta 750 milioni di crediti gli appalti non pagati alle aziende lavori iniziati portati a termine mai pagati dalla pubblica amministrazione ammonta 750 milioni di euro il macro credito che tutto il comparto edile del territorio salernitano vanta nei confronti degli enti pubblici ogni anno più di 160 aziende hanno chiuso con una perdita occupazionale di quasi 11 mila posti di lavoro l'appello di Lombardi della Federcepi Comune e Provincia ora possono chiedere anticipazioni di liquidità alla Cassa Depositi e Prestiti per saldare i debiti e poi la sanità ruggi precari chiamano De Luca sblocchi anche le nostre assunzioni mille esclusi dalla stabilizzazione centro pagina lo sport la salernitana Rechi al via al restyling Lascoli Punta Pucino Acpro recupera ancora centro pagina la tragedia Calvario tra ospedali muore in clinica 31 indagati 31 medici assistito in tre presidi dell'agro vittima un anziano di Cava residente a Nocera la famiglia denunce le cartelle cliniche sono state sequestrate poi l'inchiesta shock violentata a 10 anni i genitori si difendono non sapevamo nulla di taglio basso Sorrentino giù il sipario sul comunista colto la fine a teatro ha guidato i progressisti come oggi il figlio Luca lasciamo il mattino spostiamoci sulla città l'apertura cocaina via mare siamo secondi in Italia Andrangheta nel porto collegato al clan della Camorra da due anni c'è anche la mafia siciliana di Brancaccio il ministero dell'interno a Salerno 110 chili sequestrati nel 2017 il primato è di Gioia Tauro sotto la testata l'intervista al procuratore generale della Corte dei Conti ho vissuto da magistrato un'esperienza kafchiana centro pagina la linea dura dei vigili street control multe a raffica e poi la tendenza del mercato sempre più case all'asta per mutui non pagati di lato l'economia debiti con le imprese ora c'è uno spiraglio elezioni provinciali Lega Sica punta sull'aiuto di Zita Rosa e poi la scomparsa Sorrentino l'ultimo del partito comunista di governo e ancora Scafati alloggi popolari le di usura in graduatoria Pagani l'accoglienza da Pagani a Capaccio la deportazione degli immigrati Giffoni Vallepiana ronde notturne per difendersi dai furti continui Di taglio basso Cercalà aspettando Salvini Gerri a Pagani con la promessa di una nomina del vice premier e infine Sapri un appello per salvare il cineteatro Ferrari Andiamo ora su Cronache Il titolo di apertura boom di richieste caccia al reddito CAF in affanno Enzo Tropiano della Coldiretti e Giorgio Galano della CISL lanciano l'allarme ma mancano i modelli 12 centri per l'impiego a Salerno servono nuovi impiegati molti vanno in pensione sotto la testata Salerno come è cambiato il modo di fare sport 50 anni di attività della famiglia Regalino da Tonia a Roberta palestre oggi centri di vendita e Salvatore Sposito servono strutture di quartiere Spostiamoci su Centropaggine il giorno della memoria Zio Felice 105 anni per non dimenticare e poi l'addio al compagno Sorrentino Ferdinando fu consigliere comunale e provinciale di taglio di taglio basso Scafati 5 anni alle di usura 8 al figlio Raffaele Agropoli arrestata la banda del Bancomat e Fisciano con postaggio per il sito il Tar rinvia Lasciamo crona che andiamo sul Roma che dedica l'apertura a Marcello Pittella di missioni strategiche si è dimesso ieri per ricandidarsi ha bisogno di piena agibilità ecco la mossa per sperare nel riesame Ter dopo l'indizione delle elezioni in regione non c'è più nulla da governare si dimette dalla carica chiudendo il mandato da esiliato Centropaggina lo sport potenza calcio caiata liscia l'acquisto del samurai goleador Murano che va al Piacenza e si blinda coccia fino al 2021 ancora sport basilicata nuoto 2000 potenza la squadra cesso ogni grande dopo le due vittorie ora si punta al titolo di lato mala legislazione bocciature a raffica dal consiglio dei ministri per le leggi regionali non passa pure il cyberbullismo potenza buoni primi risultati della mobilità green le auto elettriche sono una felice realtà matera 2019 inaugurati terminal intermodali con il parcheggio a serra rifusa mobilità al top e poi il rimpatrio dei migranti in fuga dalla nigeria perché il padre lo vuole sacrificare agli spiriti degli ogboni di taglio di taglio basso l'intervista se mi voglio non mi candido il senatore dem laus di origini lucane conferma l'indiscrezione su lui come alternativa a pittella e poi Valluzzi esce dal PD e cerca l'intesa col generale Bardi si incontreranno solo dopo l'investitore ufficiale di Forza Italia questo era il quotidiano Roma con cui termina la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per qualche istante di pubblicità bentornati in studio riprendiamo la rassegna stampa con le pagine del mattino gli extra comunitari migranti via dal centro tra lacrime e caramelle svuotato a Pagani il presidio di accoglienza straordinaria la metà dei 40 stranieri sceglie sistemazioni autonome di taglio basso sempre su questa pagina strutture trasferimenti i nuovi placet della prefettura la gestione dei servizi di accoglienza affidato a 22 soggetti economici componenti del terzo settore inseriti nella graduatoria della prefettura dopo l'ultimo bando emanato con le vecchie regole d'ora in poi il settore sarà regolato regolamentato dalle nuove norme del nuovo bando la prefettura ha stipulato con ogni soggetto le convenzioni e ha avviato il trasferimento dei migranti da una struttura all'altra da dove era previsto il cambio e intanto il coordinatore provinciale della Lega Mariano Falcone annuncia che il decreto sicurezza sta consentendo risparmi anche alla provincia di Salerno in una nota l'analisi su sbarchi e centri in Italia con l'annullamento degli sbarchi alcuni nuclei di extra comunitari si stanno spostando nelle strutture territoriali con disponibilità di posti indicate dalla prefettura scrive Falcone già registriamo un risparmio per lo Stato sui costi di fitti e gestioni da reimpiegare per aiutare italiani in difficoltà lasciamo questa pagina andiamo a Nocera Inferiore le barelle non bastano il piano giordano patto tra gli ospedali Umberto I sovraffollato il direttore sanitario punta a fare rete con i nosocomidi scafati e pagani sulla gestione dei posti letto cava dei tirreni incendiati cumuli di rifiuti allarme di ossine appreggiato scafati usura e minacce cinque condanne per la gang diretta da donna Elvira cava dei tirreni bove il caso segnalato alla corte dei conti scafati statale buia quarantenne investito mentre attraversava sarno balle e fusti lungo il canale Canfora chiama la procura e mercato Sanseverino compostaggio i 5 stelle il tar conferma i timori andiamo avanti ora con battipaglia discariche e pressing bonifica l'assessore vicinanza alla regione c'è il via libera progetti esecutivi per i siti di Castelluccio e Buccoli sul tavolo 46,5 milioni per eliminare i rifiuti da 30 anni sui monti la gara entro l'anno Castellabate sgominata la banda del Bancomat 4 arresti Eboli market abusivo di cibi avariati in casa denunciato l'uomo sequestrati alimenti per 50 mila euro e a battipaglia la polizia scopre armi fuori legge Agropoli scarichi killer nel fiume multate 12 aziende Ponte Cagnano Faiano taxi Infopoint e Lidi aperti il piano per il turismo e poi Capaccio Pestum il medico volontario non aderisco alla Lega Vincenzo Mallamaci non aderirà alla Lega la conferenza convocata per lunedì prossimo è stata annullata desidero precisare dice che la mia prevista presenza in Lega Salerno di lunedì 28 gennaio sarebbe stata riconducibile solo ad un invito per approfondire i problemi dell'Africa e alla presentazione del modello adottato dall'associazione Ollus e ti porto in Africa da me presieduta per aiutare le famiglie povere ha spiegato il cardiologo di Capaccio Pestum e queste erano le pagine del mattino andiamo ora su cronache andiamo a battipaglia Treofan ormai non si sa più nulla del futuro il vertice al di Castero è stato rimandato a data da destinarsi l'incontro decisivo sulla vertenza Treofan che si sarebbe dovuto tenere ieri mattina al Ministero dello Sviluppo Economico è saltato completamente rinviato a data da destinarsi con una comunicazione del di Castero che ha cancellato l'appuntamento in agenda almeno per il momento nessuna novità è stata svelata in merito al piano industriale per la stesura del quale la Gindal avrebbe richiesto tempo ulteriore il rinvio dell'incontro da un lato ha cresciuto le speranze dei lavoratori in una positiva conclusione della trattativa dall'altro le ha ridimensionate ulteriormente vista l'assenza di certezze sulla risoluzione della vertenza Lasciamo questa pagina ma rimaniamo sempre su cronache e parliamo di reddito di cittadinanza boom di richieste inoltrate ai CAF di Salerno a caccia di ISEE per la domanda di partecipazione al reddito di cittadinanza da giorni chiedono in anticipo la documentazione necessaria e vediamo giorni caldi dunque per i CAF di Salerno e provincia ad una settimana esatta dall'approvazione del reddito di cittadinanza da parte del Consiglio dei Ministri sono centinaia le famiglie a caccia di informazioni sulla nuova manovra in attesa della pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'attivazione delle piattaforme abilitate tanti gli aspiranti al programma che bussano agli sportelli dei CAF per farsi rilasciare per farsi rilasciare l'ISEE in molti hanno dunque cominciato a chiedere il modello in questione per verificare se rientrano nei parametri da lunedì si sono moltiplicati gli accessi ai nostri CAF con centinaia di famiglie che cercano di capire se rientrano tra i beneficiari dell'assegno mensile previsto dal governo si tratta di un vero e proprio boom di richieste lo ha dichiarato Enzo Tropiano direttore di Goldiretti Salerno e anche al CAF CISL di Salerno si registra un incremento degli accessi lasciamo crona che passiamo a Roma con le dimissioni di Marcello Pittella è proprio questo il titolo Pittella si dimette da governatore ora ha una chance in più al riesame TER dopo l'indizione delle elezioni regionali non c'è più nulla da amministrare regione il gladiatore chiude da sospeso il suo mandato e vediamo la regione Basilicata è ufficialmente finita l'era Pittella dopo mesi da governatore sospeso il gladiatore non è più gladiatore la magistratura seppur indirettamente in quanto i verdetti dei giudici di potenza a materia della Cassazione di Roma attengono esclusivamente alle vicende giudiziarie dell'inchiesta Sanitopoli e non alla carriera politica del laureota ha piegato Pittella il quale ha presentato le sue irrevocabili dimissioni nell'atto si legge nell'articolo l'ex governatore che ambisce al bis in regione ha scritto che visto il decreto di indizione delle nuove elezioni fissate per il 24 marzo prossimo ritiene esaurito il mandato ricevuto dagli elettori adesso primarie o non primarie del PD è ancora più chiaro che il candidato governatore del centro-sinistra è lui Marcello Pittella e con questo termina la nostra rassegna stampa vi ringrazio per la cortese attenzione vi auguro buona giornata